Umami Area propone la diffusione della cultura del caffè di qualità e lo fa attraverso in particolari corsi di formazione compresi nel format formativo di Umami Barista Camp. I campus formativi di Umami Area sono di 2, 3, 4, 5 fino a 6 giorni continuativi durante i quali i partecipanti attraverso la frequentazione di classi frontali di lezione, workshop e confronti fra i vari partecipanti per quanto riguarda le loro esperienze professionali propone 5 moduli formativi ovvero che sono poi alla fine quelli del Coffee Diploma System della Speciality Coffee Association of Europe ovvero la formazione inerente al caffè verde, la tostatura del caffè, l'assaggio del caffè con il metodo alla brasiliana ovvero con il capping, il barista ovvero tutto il mondo che ruota attorno alla macchina caffè espresso ossia la preparazione di espresso e di cappuccini, i metodi a filtro. L'unico modulo che è introduttivo al mondo del caffè si chiama appunto introduction to coffee e permette ai partecipanti soprattutto per i coffee lover e per gli appassionati di caffè di essere introdotti nel mondo nel Coffee Diploma System. Per la prima volta Umami Aria propone in Australia il Umami Barista Camp in collaborazione con Genovese Coffee. La famiglia genovese appassionata di caffè espresso propone la loro miscela di caffè per il mercato in particolare di Melbourne ormai da generazioni. La scuola di Genovese Coffee ovvero le aule di formazione inerenti alla tostatura, inerenti al caffè verde e al capping, inerenti al brui e all'espresso sono state le sedi per una settimana di formazione full immersion che Umami Aria ha sfruttato, ha diffuso e ha coorganizzato con Genovese Coffee, Umami Barista Camp in Australia ha visto la formazione del Coffee Diploma System attraverso l'utilizzo di trainer autorizzati da parte della Specialty Coffee Association Europe, parte dei quali sono venuti qui a Melbourne dall'Italia, gli altri locali ovvero sono i trainer e il personale di controllo qualità dell'azienda di Genovese Coffee. Questo primo Umami Barista Camp presso Genovese Coffee a Melbourne nel mese di marzo 2016 è stata la prima avventura transoceanica di Umami Aria nel continente australiano e speriamo e vogliamo che non sia assolutamente l'ultima. I moduli del Coffee Diploma System sono un'ottima scusa per la diffusione della cultura del caffè di qualità nonché dell'aggiornamento professionale per gli operatori di settore, quindi sicuramente in Australia, speriamo non solamente qui a Melbourne, l'Umami Barista Camp formerà e offrirà alta formazione nel campo del caffè.